Ci voleva più che altro per il periodo passato perché comunque è stato un periodo difficile che nessuno voleva attraversare perché per primi siamo stati noi male giocatori a passare questo periodo quindi questa vittoria ci voleva per tutti quanti. Non ci ho pensato, è una cosa distinta che fa parte del mio modo di giocare quindi sono contento di aver fatto gol ma soprattutto sono contento di aver vinto insieme a tutti quanti noi perché era troppo importante. C'era l'ansia di vittoria, quello un po' sì perché comunque pochissime partite non ci sono state prestazioni che durante l'anno secondo me ci possono stare però nel periodo in cui è capitato ha influito parecchio sulla posizione della squadra, quindi diciamo che ci voleva. Salvezza ormai vicina, a un passo potremmo dire cosa manca secondo te? Manca ancora qualche punto e dobbiamo partire da qui e continuare su questa strada.